E con vero piacere che sono ospite di Fabio Faletres e c'è Fabio al mio fianco, io mi trovo naturalmente da Mitsubishi Torino 1 in corso Unione Sovietica 91, angolo via Galluppi, proprio di fronte al distretto militare, a parlare naturalmente di Mitsubishi. Ciao Fabio. Ciao Sonia e un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Veniteci a trovare anche per questo mese di febbraio perché come al solito Mitsubishi vi stupisce con le offerte veramente particolari che abbiamo su tutta la gamma. Certamente offerte molto allettanti su tutta la gamma, ve lo ricordo in pronta consegna da venire assolutamente a provare, ma non dimentichiamo anche 5 anni di garanzia. Assolutamente, 5 anni di garanzia e di assistenza stradale che è molto importante. All'interno di questo showroom non solo vendita per quanto riguarda il nuovo di casa Mitsubishi, ma ricordiamo anche un'ampia scelta di vetture d'occasione, chilometri zero, vetture aziendali, insomma multimarche, di tutto un po' e non c'è che l'imbarazzo della scelta. Assolutamente, noi siamo un'azienda grandissima, abbiamo chilometri zero appunto di moltissime marche, in più abbiamo più di 1200 usati nelle nostre 5 sedi. Quindi se non trovate l'auto che vi serve, io sono sicura che Fabio ve la troverà comunque. Detto questo, carta e penna alle mani e occhio al prezzo e alla qualità. Mitsubishi ASX, il nostro fantastico SUV di casa Mitsubishi con sempre 5 anni di garanzia e assistenza stradale, sconti particolari fino a quasi 4.000 euro. New L200, l'autocarro che c'è da più anni nella storia degli autocarri 4x4 fuoristrada, veniteci a trovare perché anche qui ci sono degli sconti fantastici. Immancabile Pajero con la sua nuova motorizzazione 3.2 da ben 197 cavalli, sconti particolari. Utilitaria di casa Mitsubishi, Space Star, a partire da prezzi che vanno sotto i 10.000 euro. New Outlander, anche questa qui, versione nuova appena uscita, motorizzazione 2.2, veniteci a trovare perché anche qui ci sono delle campagne veramente, veramente importanti. Sportivissima Alfa Romeo Giulietta, 2.0 diesel, 140 cavalli, la vettura ha percorso appena 74.000 chilometri, immatricolata nel 2011, la proponiamo a 13.500 euro, ma occhio che ci sono anche degli sconti rottamazione su questa vettura. Nissan Juke 1.5 DCI nella versione A100, anche questa è una vettura che ha pochissimi chilometri, immatricolata nel 2013, la proponiamo a 14.900 euro. SUV di casa Nissan, un bellissimo Nissan Qashqai nella versione A100, immatricolata nel 2011, anche questa è una vettura con pochissimi chilometri, venite a scoprirla, il prezzo 12.950 euro. Introvabile nell'usato, Mitsubishi SX 1.6 benzina GPL della versione Invite, la vettura è immatricolata nell'ottobre del 2013, la proponiamo a 13.950 euro. Suzuki SX 4, gemella della Fiat 16, la vettura è un 1.6 turbodiesel da 90 cavalli, quindi bassissimi consumi, la vettura è stata immatricolata nel 2010, unico proprietario, 8.950 euro, anche qui sconti rottamazione. Elegantissima Lancia Y14 Eco Chic GPL, la vettura ha l'interno in pelle, ha percorso pochissimi chilometri ed è unico proprietario, prezzo 7.5, anche qui sconti rottamazione. Fiat Croma 1.9 turbodiesel 150 cavalli, matricolata nel 2010, versione Emotion, quindi full optional, la proponiamo a 7.950 euro, se avete un usato da rottamare veniteci a trovare perché abbiamo anche uno sconto a rottamazione. Suzuki Granvitara 1.9 turbodiesel, unico proprietario, la vettura è stata immatricolata nel 2008, lo proponiamo a 10.950 euro. Bassissimo prezzo per questa Fiat Grande Punto 1.2, la vettura è un unico proprietario, è immatricolata nel 2008, 4.950 euro. Introvabile nell'usato una bellissima Corolla 7 posti 2.2 turbodiesel, la vettura è un unico proprietario, immatricolata nel 2008, pensate, con appena 58.000 chilometri. La proponiamo a 9.950, anche qui se avete un usato da rottamare portatecelo. Fiat Grande Punto, benzina GPL, immatricolata nel 2011, con pochissimi chilometri, la proponiamo a 6.950 euro, anche questa con sconto a rottamazione. Sono tante le promozioni in casa Mitsubishi, ma sono tante le promozioni di Mitsubishi Torino 1, quindi venite a scoprirle in questa sede in Corso Unione Sovietica 91 Angolo Via Galluppi e sono sicura che Fabio e il suo team non vi deluderanno. Assolutamente, vi aspetto numerosi, come siete stati numerosi anche nel mese di gennaio. Veniteci a trovare qui numerosi in Corso Unione 91 Angolo Via Galluppi, di fronte al distretto militare, che vi stupiremo. Ti ringrazio come sempre dell'ospitalità, dell'accordialità e naturalmente della professionalità. Ringrazio voi per l'ascolto, ma vi dico di non andare via perché il mio viaggio all'interno del gruppo non si esaurisce qui in Mitsubishi Torino 1, ma prosegue alla scoperta di un altro marchio del gruppo, il marchio Kia. State con noi. Il mio papà apre le porte con la forza del pensiero, lo giuro. Con il nuovo Kia Sportage, tutto è straordinario. Wow, tuo papà ha i superpoteri. Mai quanto lui però. Nuovo Kia Sportage, nato per stupire. Oggi anche 1.7 diesel con cambio automatico DCT a 7 rapporti. Tuo da 230 euro al mese con manutenzione inclusa. E come promesso mi sono trasferita a Collegno in Corso Francia 138 a parlare di un altro marchio, il marchio Kia, che il gruppo AD egregiamente rappresenta ormai da tanti anni. Sono naturalmente in compagnia di Fabrizio Castagneris, che rivedo con piacere, a cui spettano come di consueto gli onori di casa. Ciao. Ciao Sonia, un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono assiduamente. Bene, e cominciamo dalla novità, ce l'abbiamo alle nostre spalle, rossa fiammante coperta, non la possiamo far vedere. Si tratta della nuova Kia Rio, che tutti voi potrete venire ad apprezzare a partire già da sabato 25 febbraio. Porte aperte dedicato a lei, ma non solo. In primis comunque c'è lei, una nuova vettura che sicuramente non passerà inosservata, che rivoluziona un po' anche il concetto di design della gamma. Sì, ci stiamo avvicinando al primo evento importantissimo di casa Kia dell'anno 2017, il lancio della nuova Kia Rio, prodotto di grande qualità e con delle caratteristiche tecniche, telematiche innovative, con sistemi di sicurezza attiva che ci permettono di mantenere sempre il pieno controllo della vettura e su quello che ci sta intorno. È un piacere anticiparvi questo lancio perché è un prodotto eccezionale. Un prodotto eccezionale da venire assolutamente a vedere e provare, a partire ve lo ricordo da sabato 25 febbraio. 25 e 26 febbraio Porte Aperte dedicato a lei, ma non dimentichiamo comunque il resto della gamma che noi ricordiamo puntualmente. A cominciare dalla piccolina. Cominciamo dalla piccolina. Kia Picanto in offerta a 9.300 euro nella serie Collection, sono rimasti pochissimi esemplari. Kia Rio a partire da 11.300 euro, sempre gamma Collection, anche qui pochi pezzi disponibili. Kia Venga a partire da 13.450 euro. Kia Sportage, il nostro cavallo di battaglia, a partire da 18.000 euro. E su Kia Sportage mi soffermo un attimo perché da questo mese è possibile avere anche l'innovativo cambio DCT doppia frizione sulle motorizzazioni 1.700 diesel, due ruote motrici. Poi passiamo alla Kia Seed Berlina a partire da 14.250 euro. Kia Seed Station a partire da 15.150 euro. Kia Soul a partire da 14.000 euro. E poi passiamo a Kia Niro in promozione, il nuovo ibrido di casa Kia a partire da 21.900 euro. Kia Canes, il monovolume compatto con 7 posti a partire da 18.500 euro. E la nostra ammiraglia Kia Optima a partire da 23.500 euro nella configurazione Sedan. Bene, una bella gamma sicuramente apprezzata che sta riscuotendo successo proprio per l'ampia possibilità di scelta. ma grazie anche alle agevolazioni d'acquisto con lo sconto Rotamazione che noi ricordiamo. Sconto Rotamazione, arriviamo fino a 5.000 euro di vantaggi per il cliente sulla gamma Kia. Venite a trovarci, siamo in grado di servirvi in pronta consegna su tutta la gamma. Bene, sapete che vi dico che i vantaggi per il cliente si moltiplicano grazie a scelta Kia. Anche sulla nuova vettura Kia Rio sarà disponibile l'innovativo sistema di acquisto scelta Kia che ci permette di avere un costo di guida sicuro e di sostituire la nostra vettura ogni 24 o 36 mesi con una nuova vettura Kia. Ma a proposito della nuova Kia Rio, io so che c'è un concorso legato ad essa, ne parliamo? Su Kia Rio non anticipo niente ma ci sono promozioni a lancio e c'è un concorso che vi permetterà di poter vincere anche una Kia Rio. Bene, allora correte numerosi, venite a provarla, venite a vederla, ad apprezzarla, sono sicura che questa nuova vettura non passerà inosservata e non vi deluderà. Ricordiamo comunque che all'interno di questa concessionaria ci sono altre ottime opportunità d'acquisto per i nostri amici che riguardano le occasioni, le chilometri zero, le vetture aziendali. Abbiamo sempre disponibile un buon assortimento di vetture chilometri zero, aziendali e usate tutte super garantite, controllate con 12 mesi di garanzia. Quindi prezzi competitivi, ottimo rapporto prezzo qualità anche per ciò che riguarda il mondo dell'usato, qualche esempio? Facciamo qualche esempio anche dell'usato, dai. Iniziamo con una Nissan Micra Eco GPL chilometri zero a 10.950 euro. Passiamo poi a una Mitsubishi Space Star benzina a 9.900 euro. Introvabile del mercato dell'usato Mini One Diesel 1.6 a 10.950 euro. Fiat 500 1.2 Sport a 7.500 euro. Ford Fiesta 1.2 benzina con solo 44.000 chilometri a 6.950 euro. Volkswagen Golgiti 2.000 benzina a 3 porte a solo 13.500 euro. Polo 1.2 benzina con solo 33.000 chilometri a 8.500 euro. L'obiettivo fondamentale della nostra azienda è la soddisfazione e fidelizzazione del cliente. Su tutte le preposte che trovate qui in Corso Francia 138 a Collegno, un anno di garanzia, vetture tagliandate, preparazione accurata per soddisfarvi nel migliore dei modi. Bene, siamo in chiusura per ricordarvi naturalmente di venire a provare la novità di Casa Chio, la nuova Chiario a partire da sabato 25 febbraio. A partire da sabato 25, domenica 26, siamo aperti per l'open weekend di lancio. Venite a trovarci in Corso Francia 138 a Collegno. Non dimentichiamo comunque le agevolazioni d'acquisto per tutto quello che riguarda il resto della gamma, fino a 5.000 euro di scontorottamazione. Lo puntualizziamo? Puntualizziamo, i vantaggi sono molti per l'acquisto in questo mese di febbraio, fino a 5.000 euro sulla gamma Chia. Bene, io ti ringrazio Fabrizio alla prossima, buon lavoro. Grazie Sonia, un saluto ai telespettatori. Ma non andate via, l'appuntamento prosegue, il nostro viaggio continua, alla scoperta di un altro marchio che il gruppo AD rappresenta egregiamente, sto parlando naturalmente di Casa Toyota. State con noi. E a parlare naturalmente del marchio, il marchio Toyota, troviamo come di consueto in Corso Francia 138 da Central Motors, Davide Paradiso. Ciao. Ciao Sonia, benvenuta e bentornati a tutti quanti voi. Bene, in ottima forma, come sempre, pronto e pimpante a dar consigli ai nostri amici. Di cosa ci parli quest'oggi? Oggi volevo parlare di soluzioni, perché siamo diventati specialisti nelle soluzioni e i problemi che abbiamo abbastanza comuni, quello che è il traffico oggi, quindi la circolazione ad esempio al gasolio. E cosa offre Toyota? Offre l'ibrido. Bene, mi sembra molto interessante. Una puntata all'insegna delle soluzioni esclusive di Central Motors per voi. Seguiteci con attenzione. E a proposito di ibrido, parliamo di CHR, SUV, Coupé, un po' tutto. Esattamente, è proprio l'auto che racchiude l'ibrido anche in quello che appunto è l'espressione che offre la vettura. Nuovo Toyota CHR Hybrid, ad esempio, potrà essere vostro a partire da soli 23.900 euro grazie al prezzo di lancio dell'auto e alla campagna per mutare l'ottamazione in Corso Toyota. Supervalutiamo il vostro usato, oppure con anticipo magari di 6.000 euro, vi offriamo anche una soluzione finanziaria di 45 canoni mensili da 212 euro al mese. Un'altra bella alternativa all'auto, per parlare sempre di ibrido, parliamo di Auris Ibrida. Esattamente, la nuova, questa nuovissima model year già 2017 Auris Hybrid Touring Sport potrà essere vostra a partire da soli 18.900 euro. Anche qui troviamo la campagna rottamazione Toyota con anticipo 0 e 45 canoni da 290 euro al mese o da 330 già con assicurazione furto e incendio per 4 anni. La prima rata, vi ricordiamo sempre, dopo 90 giorni, Altan 390. L'ibrido non è un'opinione in casa Toyota, ma sta diventando sempre di più una certezza e sapete perché 9 milioni di Toyota sono state vendute ibride in tutto il mondo. Ci sono meno 67 milioni di tonnellate di CO2, meno 25 miliardi di litri di carburante, quindi è proprio una bella realtà. Anche per ciò che riguarda il nuovo RAV4. Esattamente, Sonia, non potevi dire meglio. Il nuovo RAV4, in questo momento, nella versione ibrida, abbiamo dedicato a voi un'offerta pazzesca a partire da soli 27.900 euro. Supervalutando il vostro usato o con anticipo di 6.000 euro, nuova soluzione finanziaria, 45 rate da 340 euro, furto e incendio e inclusi per 4 anni sempre. E parliamo naturalmente di nuova EGO. Esattamente, la piccolina di casa Toyota, la nuova EGO che qui vedete nell'allestimento Excite, quindi è una delle versioni più belle e più accessoriate. La nuova EGO, 5 porte da 11.500 euro di listino, potrebbe essere vostra a 9.400 euro grazie ai contributi sempre a Ottamazione Toyota. Anche qui vi offriamo la soluzione finanziaria di 45 canoni mensili, sempre prima rata dopo 90 giorni, a 148 euro mese. Una familiare con ottime agevolazioni d'acquisto può essere Toyota Verso. Esattamente, l'auto, hai detto bene, proprio adatta a tutte le famiglie in qualità di spazio, comfort, non ha uguali. La nuova Toyota Verso, 1.632 cavalli, potrebbe essere vostra a partire da soli 16.950 euro. Se avete una rottamazione, anticipo 0, 45 rate da 312 euro al mese o da 363 con 4 anni di assicurazione furto e incendio. Nella nostra vetrina non può mancare naturalmente nuova Yaris, facilmente acquistabile grazie a Paper Drive. Esattamente, Sonia, facilmente acquistabile grazie alle offerte e alle soluzioni finanziarie che vi stiamo offrendo. Quella che vedete qui davanti è una delle ultimissime disponibili in pronta consegna, prima dell'uscita ovviamente del modello nuovo Toyota Yaris. E questa appunto che vedete qui davanti gode di uno sconto addirittura del 30% dal listino, quindi da 14.200 euro può essere vostra a soli 10.000 euro. Con un usato da rottamare, sempre anticipo 0, 45 rate da 208 euro, furto e incendio inclusi per 4 anni. Ovviamente disponibili anche nelle versioni Hybrid, a partire da soli 15.600 euro. Soluzione è stata la parola guida quest'oggi all'interno della concessionaria Central Motors di Collegno e con soluzione noi terminiamo la puntata ricordando magari delle soluzioni finanziarie per i nostri amici. Esattamente, perché le soluzioni finanziarie che vi abbiamo suggerito in questa breve carrellata sono solo una minima parte di quello che vi possiamo offrire. Ovviamente nelle soluzioni finanziarie noi vi daremo anche e vi offriremo con piacere la manutenzione Toyota, la manutenzione ufficiale, quindi oltre a quello che è il prodotto assicurativo, l'estensione della garanzia, abbiamo la carrozzeria, abbiamo l'officina di cambi. Non ci manca praticamente nulla e siamo sempre ben disposti a risolvere qualsiasi tipo di problematica e quindi soluzione sempre prima di tutto. Certamente lo scopo è fidelizzare il cliente, per farlo bisogna soddisfarlo al massimo, insomma a 360 gradi. Io ti ringrazio, alla prossima. Grazie a te Sonia, arrivederci, vi aspettiamo come sempre in tantissimi. Sicuramente in tantissimi, tutti qui presenti a Collegno in Corso Francia 138 da Central Motors. Alla prossima.